Ciao a tutti e benvenuti a questa sessione in cui parleremo di .NET 5, la nuova evoluzione dell'ecosistema .NET, ma con un occhio di riguardo al mondo dello sviluppo di applicazioni per Windows. Come sappiamo .NET Core 3.0 è stata la prima versione di questo nuovo runtime a portare anche gli sviluppatori Windows Desktop all'interno di questo ecosistema, grazie al supporto a WPF e Windows Form. Nel corso di questa sessione vedremo come .NET 5 ci permetterà di sfruttare ancora meglio questo runtime per le nostre applicazioni Windows e come in realtà il futuro dello sviluppo di applicazioni desktop è innestato e legato a doppio filo con questo ecosistema. Il mio nome è Matteo Pagani, sono un engineer nel team Windows App Consult in Microsoft e mi occupo proprio di aiutare gli sviluppatori e le aziende a sfruttare le nuove tecnologie per sviluppare applicazioni Windows Desktop. .NET 5 è sicuramente una delle componenti principali di questo lavoro. Ringraziamo i nostri sponsor che danno la possibilità a tutti voi di seguire questo evento così grande in maniera totalmente gratuita e partiamo da .NET. .NET è diventato sempre di più un ecosistema in grado di abbracciare lo sviluppo di qualsiasi tipo di applicazione dal web al cloud al mobile e così via. Come anticipato nell'introduzione .NET Core 3.0 è stata la prima versione di questo nuovo runtime, il runtime di .NET Core, che era nato inizialmente per l'ecosistema web, cloud, back-end, ma che oggi trova un alleato anche negli sviluppatori front-end grazie al supporto a WPF e Windows Form. Perché come sviluppatore desktop mi può interessare l'approccio di .NET Core, lo sfruttamento di .NET Core e .NET 5 per le mie applicazioni desktop? Beh, uno dei primi motivi è che .NET Core e .NET 5 sono il futuro dell'ecosistema .NET. .NET Framework 4.8 è l'ultima versione che è stata rilasciata del Framework .NET per Windows, ma non è solamente l'ultima in termini temporali, ma è anche l'ultima in termini di rilasci. Ovvero non ci saranno più versioni del Framework .NET. Tutte le nuove feature, le nuove funzionalità saranno integrate all'interno del nuovo ecosistema .NET, che è quello che è nato sulla base di .NET Core. Questo non significa che nel giro di 4.4.8 dovete correre a aggiornare le vostre applicazioni o migrare le vostre applicazioni. Il .NET Framework continua a seguire lo stesso ciclo di supporto del sistema operativo, quindi farà sempre parte di Windows, continuerà ad essere supportato all'interno di Windows, continueranno a uscire aggiornamenti che saranno però focalizzati solo sull'aspetto di bug fix, problemi di sicurezza e così via. Non ci saranno novità in termini applicativi. Quindi il suggerimento che noi diamo agli sviluppatori è se avete già delle applicazioni Framework .NET che però hanno raggiunto lo stato dell'arte, ovvero sono applicazioni mature che vengono utilizzate, magari c'è qualche fix che fate qua e là, ma non sono applicazioni che hanno un orizzonte temporale molto vasto, non ci saranno nuove feature. Allora ha senso rimanere sul Framework .NET perché, proprio come vi ho appena anticipato, a livello di supporto non sarete abbandonati. Se però parliamo di applicazioni che invece continuate ad evolvere, che hanno un orizzonte temporale più lungo, per cui i vostri clienti continuano a chiedervi nuove feature e nuove caratteristiche da implementare, Allora invece la strada suggerita è quella di migrare verso il nuovo ecosistema .NET 5, proprio perché è dove tutte le evoluzioni saranno apportate. Non solo in termini di runtime e linguaggio, ma come vedremo poi anche dopo, tutto quello che il team di Windows sta andando a realizzare per evolvere lo sviluppo di applicazioni desktop, ha come base di partenza proprio questo nuovo ecosistema. Quali sono invece motivi un po' più pratici per sviluppare, per migrare le nostre applicazioni a .NET 5? Sicuramente il vantaggio più grosso, soprattutto per chi fa applicazioni che vengono distribuite a livello enterprise, è la flessibilità dei meccanismi di deployment. Il framework .NET era un framework monolitico, installato all'interno del sistema operativo, e che ha sempre dovuto avere come faro non tanto l'aspetto innovativo, ma l'aspetto della retrocompatibilità. Dato che quando noi aggiorniamo un'applicazione o il framework, dobbiamo assicurarci che tutto continua a funzionare. Con invece l'ecosistema .NET Core Prima e .NET 5 adesso, invece, abbiamo la possibilità di far girare più versioni del runtime in modalità side-by-side, quindi di poter aggiornare le nostre applicazioni o i framework sulla macchina senza preoccuparci di rischiare di rompere applicazioni esistenti. Possiamo addirittura arrivare a fare dei pacchetti che contengano non solo l'applicazione vera e propria, ma anche il runtime. E quindi distribuire le nostre applicazioni WPF e Windows Form a utenti, a clienti, che non hanno il runtime installato sulla macchina. E questo ci dà una flessibilità di poter aggiornare la nostra applicazione, di poter distribuire la nostra applicazione, che prima con il framework .NET non avevamo. Inoltre .NET Core, soprattutto per il fatto che era nato per soddisfare scenari di cloud, back-end, microservizi e quant'altro, c'è stato un forte lavoro di performance su una serie di aspetti, ad esempio la comunicazione di rete, il file system e così via. Quindi migrando le nostre applicazioni a .NET Core e a .NET 5 ci portiamo a casa questi vantaggi in maniera gratuita. Inoltre, l'altro vantaggio è che Windows Form e WPF, nonostante siano due framework non nuovi, sono stati creati da, esistono da parecchi, parecchi anni, grazie al migrazione a .NET Core e al fatto che ora sono diventati open source, quindi il contributo come nuove feature non è solo del team, ma è della community .NET in generale, ha permesso, ci dà la possibilità di aggiungere nuove feature. E ad esempio Windows Form, grazie anche al lavoro della community, con .NET 5 ha introdotto delle nuove feature, come ad esempio un nuovo control task dialog, dei miglioramenti sulla list view, dei miglioramenti sulla parte di accessibilità e così via. Quindi spostarci sull'ecosistema .NET 5 significa non solo avere un runtime più moderno, usare delle feature della piattaforma più moderna, come la nuova versione del linguaggio C Sharp, ma anche proprio avere delle nuove feature specifiche della piattaforma per cui stiamo lavorando, che è l'applicazione desktop per Windows. Un'altra novità di .NET 5 su cui sta lavorando, su cui ha lavorato il team, è la gestione degli aggiornamenti. Qual è il problema che è nato con l'ecosistema .NET Core? Che se da una parte la flessibilità di avere il runtime indipendente e aggiornabile in maniera separata dall'applicazione è un grosso vantaggio, dall'altra soprattutto negli ambiti enterprise dove si vuole avere un pieno controllo delle macchine, dove non si può distribuire un aggiornamento ogni volta che c'è un aggiornamento del framework e così via, questo .NET Core, l'approccio .NET Core ha creato dei problemi perché se prima col .NET Framework gli amministratori, gli IT Pro che amministrano la rete potevano essere più tranquilli perché sapevano che con gli aggiornamenti di Windows si sarebbero trovati in automatico anche gli aggiornamenti del framework .NET, questo non avviene più per .NET Core. Gli aggiornamenti non vengono più distribuiti tramite Windows Update. Quello che il team ha fatto è quindi stato collaborare col team di Microsoft Update, che non è Windows Update, è Microsoft Update, quindi fornisce gli aggiornamenti più in generale, infatti non vengono caricati come aggiornamenti di Windows, distribuiranno tramite questa piattaforma anche gli aggiornamenti del runtime di .NET 5. Questo significa che appunto non arriveranno in automatico assieme a Windows, è comunque un runtime separato, però un'azienda che gestisce ad esempio l'impropria infrastruttura aziendale con Intune, Point Manager e così via, si troverà in automatico nel proprio catalogo di aggiornamenti che può distribuire sulle macchine anche gli aggiornamenti del runtime, quindi facilitando la distribuzione ad esempio di aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti critici e così via. Questo vale solo per gli aggiornamenti minori ovviamente, quindi se avete ad esempio sulle vostre macchine la versione 5.0 di .NET, tramite questo sistema potrete distribuire in automatico la 5.01, la 5.02 e così via. Quando si tratta di aggiornamenti non minori, quindi la 5.1, la 5.2, la 6.0, che oltre a contenere aggiornamenti di sicurezza o critici possono contenere anche nuove feature o come nel caso ad esempio di .NET 6, un runtime completamente aggiornato, ci sarà comunque, sarà ancora un meccanismo di distribuzione manuale, proprio perché non parliamo di aggiornamenti minori. Uno dei cambiamenti che c'è stato nella migrazione da .NET Core a .NET 5 è il modo in cui usiamo, sviluppiamo un progetto per Windows. Cosa è cambiato tra .NET Core e .NET 5? Beh, come probabilmente saprete, uno dei, il punto fondamentale, l'aspetto fondamentale di .NET 5 è quello di migrare tutto l'ecosistema verso un unico runtime. Se in passato avevamo runtime diversi, per cui avevamo il framework .NET, avevamo .NET Core, avevamo Mono, che ancora è alle spalle di framework come Blazor o Xamarin, con .NET 5 invece l'obiettivo è quello di avere un unico runtime e un'unica base class library. Quindi uno dei cambiamenti che impatta gli sviluppatori desktop è il modo in cui si definisce un progetto per Windows. Se con .NET Core avevamo il target framework unico, quello standard .NET Core App 3.1, ma utilizzavamo l'SDK specifica di Windows Desktop, con il passaggio a .NET 5 invece avviene il contrario, ovvero abbiamo l'SDK, utilizziamo l'SDK standard di .NET, che è quella standard per qualsiasi tipo di progetto, ma poi come target framework andiamo a utilizzare una variante specifica per Windows. Cosa significa? che con questo target framework avremo accesso a tutta la class library di .NET 5, ma anche alle API specifiche invece dell'ecosistema Windows, come ad esempio il registro di sistema, i servizi WCF, i servizi Windows e così via. Quindi API che non possono stare nel contenitore, nella base class library, nel framework di .NET 5, perché se ad esempio andiamo sul web o su un progetto su Linux, che gira su Linux, i servizi WCF o il registro di sistema non esistono. Quando utilizziamo quindi questo target framework, abbiamo applicazioni che possono girare su Windows 7, su Windows 8 e su Windows 10, perché ci danno accesso all'ecosistema dell'API Win32 della piattaforma. Un'altra, una delle cose che è stata annunciata qualche anno fa a Build e che si è evoluta nel corso del tempo, è il rompere, il tentativo che sta facendo il team di Windows, di rompere sempre di più le barriere tra l'ecosistema Win32 e l'ecosistema di Windows 10. Windows 10 ha introdotto la Universal Windows Platform, che è questa nuova piattaforma di sviluppo, al cui interno ci sono tutte le API implementate con il Windows Runtime per interagire con le funzionalità di Windows 10. Una volta in passato, questa barriera tra questi due ecosistemi era molto forte, quindi se volevo sfruttare le novità di Windows 10, dovevo per forza sviluppare un'applicazione da zero con la Universal Windows Platform. Oggi la Universal Windows Platform è sempre di più un framework di API che oltre a usarlo per creare un'applicazione da zero, lo posso usare anche per integrare nuove feature nella mia applicazione. Fino a .NET Core 3.0 potevo raggiungere questo obiettivo tramite un pacchetto NewGet che andava ad aggiungere al mio progetto un riferimento ai metadati della Universal Windows Platform. Questo era sufficiente perché sia il compilatore di .NET che il compilatore di .NET Framework includevano un riferimento alla projection per il Windows Runtime. Che cos'è la projection? Tutto l'ecosistema del Windows Runtime è un ecosistema nativo e la projection è quella che mi permette di raggiungere questo ecosistema nativo dalla mia applicazione che invece è managed ed è scritta in C Sharp. Con .NET 5 però, dato che l'obiettivo di .NET 5 è quello di essere il più agnostico possibile, con .NET 5 è stato rimosso dal compilatore questa projection ed è stata spostata all'interno di un pacchetto NewGet dedicato che si chiama C Sharp WinRT. Questo dà la possibilità alla mia applicazione .NET 5 di utilizzare tutte le API del Windows Runtime e quindi utilizzare ad esempio API per la geolocalizzazione, API per il Bluetooth, notifiche, autenticazione biometrica e così via. E in più, e questo lo vedremo dopo più in dettaglio in una demo, mi permette anche di usare i componenti del Windows Runtime che in passato erano una funzionalità esclusiva dell'applicazione Universal Windows Platform anche all'interno delle mie applicazioni .NET 5. Questo pacchetto NewGet però per noi sviluppatori .NET rimane in realtà nella maggior parte dei casi trasparente perché non dovremmo mai utilizzarlo manualmente. ovvero in che modo .NET 5 ha introdotto una serie di target framework che sono specifici per Windows 10. Quindi noi possiamo dire che la nostra applicazione non è solo un'applicazione .NET 5.0 Windows ma è Windows 10 e una determinata versione di Windows 10. Quando usiamo questo target framework oltre all'accesso all'API dell'ecosistema Win32 quindi quelle che abbiamo citato prima registro di sistema, servizi di Windows e così via abbiamo anche accesso all'ecosistema della Universal Windows Platform tramite questo pacchetto C-Sharp WinRT che viene installato dietro le quinte quando utilizziamo uno di questi target framework specifici di Windows 10. Il numero di versione che vediamo lì nel target framework non è quello della versione di Windows 10 su cui girerà la nostra applicazione ma rappresenta la superficie di API che vogliamo utilizzare. Ogni versione di Windows 10 ha aggiunto un nuovo set di API quindi più recente la versione di Windows 10 maggiore è la superficie di API che potremo sfruttare. Questo approccio di usare un target framework specifico lo ritroveremo poi anche più avanti quando .NET 6 integrerà anche il mondo mobile cross-platform quindi Xamarin al suo interno anche in quel caso troveremo un approccio simile ad esempio per avere un progetto che ha come target Net 6 Android oppure Net 6 iOS 14 quindi avere accesso alle API specifiche della piattaforma mobile e di una specifica versione del sistema operativo mobile. Vediamo una demo di utilizzo di questo meccanismo per aggiungere funzionalità specifiche di Windows 10 alle nostre applicazioni desktop. In questo esempio abbiamo un'applicazione .NET 5 per l'ecosistema Windows al cui interno utilizziamo l'API di WinML WinML è una feature di Windows 10 che permette di sfruttare algoritmi di machine learning all'interno delle nostre applicazioni Windows. Qual è il punto di forza di questa funzionalità? Che questi algoritmi di machine learning possono lavorare con dei modelli che stanno in locale quindi la nostra applicazione è in grado di valutare modelli di machine learning direttamente in locale utilizzando la CPU e la GPU senza doversi per forza collegare a un servizio che sta nel cloud ad esempio quindi per implementare quello che noi chiamiamo scenario edge quindi l'intera valutazione viene fatta direttamente sul computer locale senza bisogno di connettività. Quando noi importiamo un modello ONNX che è un formato standard per definire algoritmi di machine learning l'isostudio è in grado di generare delle classi proxy come questa che semplificano l'interazione con questo modello nello specifico lui mi ha creato questa classe proxy per un modello che si chiama planes.nnx che mi riconosce aeroplani in un'immagine e quindi mi dà un modello un metodo che si chiama evaluate async che prende in input lo stream di un'immagine e mi restituisce in output un valore di confidenza da 0 a 1 che mi dice se il modello è effettivamente riconosciuto un aereo oppure no. Come vedete queste API fanno parte di questo namespace che è Windows. Windows. è tutto quello che appartiene all'ecosistema dell'Universal Windows Platform ma come vedete ho tutta una serie di errori di compilazione perché? Perché il mio progetto ha come target .NET 5 Windows generico quindi questo è un progetto che può girare anche ad esempio su Windows 7 o su Windows 8 dove non ho l'ecosistema del Windows Runtime per utilizzare le mie API di Windows 10 non devo fare altro che utilizzare invece il target framework specifico di Windows 10 in questo caso la versione più recenti con l'SDK 19.0.41 quando faccio questa cosa se vado a vedere i framework referenziati dal mio progetto vedo che mi viene aggiunto in automatico un riferimento all'API della Universal Windows Platform e quindi il risultato è che come vedete se torno alla mia classe precedente non ho più gli errori di compilazione il mio progetto ora funziona perfettamente e lo posso compilare e lanciare senza problemi lanciamo l'applicazione come vedrete è un'applicazione WPF quindi non si riconoscerà facilmente vedete che è un'applicazione molto semplice con una finestra vuota e un pulsante di WPF ma nel momento in cui vado a scegliere una foto ad esempio quella di una macchina vedete che entrano in azione entrano in azione le API di Windows 10 di WinML e mi dicono guarda no non è un'immagine di un aeroplano questa sono allo 0% ho riconosciuto un aeroplano se invece gli passo la foto di un aeroplano invece guarda in questo momento al 100% sono confidente che questa sia la foto di un aeroplano quindi questo era un esempio legato a WinML ma pensate a qualsiasi funzionalità di Windows 10 che prima era utilizzabile solo in un'applicazione di Universal Windows Platform le notifiche, le tile, l'autenticazione biometrica con Windows Hello ora la possiamo integrare anche nelle nostre applicazioni Win32 desktop tradizionali un altro aspetto, un'altra funzionalità che ci permette, che ci abilita C Sharp WinRT questo pacchetto NewGet con la projection C Sharp WinRT è la possibilità di utilizzare componenti del Windows Runtime in applicazioni .NET le librerie, i Windows Runtime Component sono fondamentalmente le class library dell'ecosistema Windows Runtime quindi delle librerie al cui interno posso mettere dei controlli, posso mettere della logica e così via la caratteristica particolare di questi componenti è che possono essere cross linguaggio cosa significa? che io posso avere un'applicazione C Sharp che però utilizza un Windows Runtime Component scritto in C++ grazie al fatto che questi componenti producono dei metadati che descrivono il comportamento della mia libreria io sono in grado di utilizzarli in maniera cross linguaggio e questo apre scenari interessanti come ad esempio il fatto di avere un'applicazione principale scritta in C Sharp perché è il linguaggio con cui sono più produttivo ma la mia libreria che deve fare elaborazione video in maniera intensiva e quindi deve usare al massimo la CPU la faccio in C++ perché in codice nativo posso raggiungere le performance migliori fino a qualche tempo fa questo discorso era vero ma solo per l'ecosistema Universal Windows Platform quindi l'applicazione che utilizzava questo componente doveva essere un'applicazione di Universal Windows Platform ora invece grazie a C Sharp e in RT questo componente lo possiamo utilizzare anche nella nostra applicazione desktop.net 5 ci basta come facciamo ci basta andare nel nostro Windows Runtime Component referenziare C Sharp e in RT e creare un progetto che tramite questi attributi queste proprietà che vedete nelle slide C Sharp e in RT includes specificare qual è il namespace che vogliamo includere all'interno della nostra libreria vediamo una demo in azione e partiamo da il componente Windows Runtime qui in questo progetto questa soluzione abbiamo un Geolocation Component che è un Windows Runtime Component se andiamo nelle proprietà vediamo che non è una class library.net ma è un Windows Runtime Component e è scritto in C++ quindi se andiamo a vedere il codice di questa applicazione di questa libreria questa libreria espone semplicemente due metodi getLatitude e getLongitude che con l'API del Windows Runtime vanno a recuperare le coordinate dell'utente e le restituiscono al chiamante tutto implementato in C++ dopodiché abbiamo un progetto invece una class library.net anche in questo caso utilizza il target framework specifico di Windows 10 dove al suo interno cosa abbiamo aggiunto? due referenze e due riferimenti la prima è un riferimento al Windows Runtime Component stesso quello che abbiamo creato che abbiamo visto prima in C++ e invece un riferimento alla libreria C Sharp WinRT a questo punto non dobbiamo fare altro che dichiarare il namespace del componente Windows Runtime che vogliamo esportare in questo caso è il Geolocation Component che abbiamo visto prima e poi come passo ulteriore per semplificare il consumo l'utilizzo di questa libreria andiamo anche a creare un pacchetto new get che contiene questa DLL e questa libreria all'interno del nostro progetto quindi l'output della compilazione sarà un pacchetto new get quello che poi possiamo fare è andare in un'applicazione questa è un'applicazione .NET 5 WPF desktop quindi anche qui non un progetto Universal Windows Platform ma desktop tradizionale dove l'unica particolarità è che vado a configurare una sorgente new get che è oltre a quella standard il feed standard di new get anche la cartella in cui la libreria che avete visto in precedenza va a creare il pacchetto new get in fase di compilazione in questo modo sono in grado di andare a raggiungere un riferimento al pacchetto new get geolocation component anche se questo pacchetto new get non sta nel cloud non sta nel feed nel repository di new get ma sta in locale sulla mia macchina quindi in questo modo io sono in grado poi anche se il mio progetto era un componente in C++ di utilizzarlo all'interno della mia applicazione desktop con la sintassi di C Sharp quindi vado a creare un nuovo oggetto di tipo geolocation service chiamo il metodo get latitude e get logitude e vado a mostrare a video nello xaml di vpf con due controlli di vpf questa informazione quindi anche qui lanciamo questa applicazione anche qui applicazione desktop vpf che però quando chiamo get position mi va a chiamare l'api della windows runtime tramite un windows runtime component questo ovviamente è solo un esempio nel senso che questa funzionalità avrei potuto implementarla senza il windows runtime component ma chiamando l'api della geolocalizzazione direttamente nell'applicazione .net esattamente come prima ho fatto con winml però era per farvi capire che ho utilizzato invece un componente che prima era solo per l'universal windows platform il mio componente avrebbe potuto fare qualcosa di molto più complesso e molto più resource intensive ma avrei potuto comunque sfruttarlo all'interno della mia applicazione desktop vpf quello che avete visto ora fino adesso sono i primi pezzi i primi esempi di un progetto più ampio su cui il team di windows sta lavorando e che ci aiuterà a portare le applicazioni win32 nel futuro quindi nel renderle sempre più integrate con tutto quello che troviamo all'interno di windows 10 in che modo beh innanzitutto il primo obiettivo di questo progetto su cui sta lavorando il team è quello di creare permettere agli sviluppatori di creare applicazioni che siano le meglio più efficienti il più moderne possibile che diano un'esperienza utente che sia grande grandiosa che sia ottimale per chi le utilizza e questo nel 2021 significa supportare l'hardware più recente offrire delle user experience che siano moderne e quindi basate anche su input alternativi come il touch la penna digitale e così via avere dei meccanismi di deploy delle applicazioni che siano semplici ed efficaci offrire applicazioni che siano sicure e rispettose della privacy e anche che siano rispettose delle performance e della durata della batteria oggi viviamo sempre di più in un mondo che è mobile first non solo perché usiamo dispositivi come telefono e tablet ma anche perché siamo spesso in movimento ci troviamo spesso a lavorare in ambienti che non siano casa nostra e quindi abbiamo bisogno di applicazioni che non uccidano la batteria del nostro portatile nel giro di poche ore questi obiettivi che voi vedete in questa slide in realtà se avete un po' di esperienza con lo sviluppo di applicazioni windows non vi sorprenderanno particolarmente sono gli stessi obiettivi con cui è stata creata qualche anno fa la universal windows platform qual è la differenza però allora di questo nuovo progetto su cui sta lavorando il team di windows è quello di raggiungere questi obiettivi però partendo da dove siete oggi la universal windows platform richiedeva nella maggior parte dei casi di partire da zero perché il windows runtime è un nuovo ecosistema non compatibile con quello che esisteva già in passato e quindi per sfruttare tutti quei vantaggi che abbiamo visto prima bisognava partire nella maggior parte dei casi quasi da zero con questo nuovo progetto invece si vuole partire da dove siete oggi quindi darvi la possibilità di raggiungere questi obiettivi anche se avete già delle applicazioni windows form vpf di poter continuare a distribuire le applicazioni con i meccanismi che utilizzate oggi e di poter sfruttare di potervi dare la possibilità di utilizzare queste feature attraverso le varie versioni di windows 10 e non obbligare l'utente ad essere sempre sulla versione più recente questo progetto si chiama project reunion è stato presentato a build l'anno scorso e quest'anno ne vedremo i primi frutti con il rilascio delle prime versioni qual è il punto di arrivo di project reunion oggi quando iniziamo a sviluppare un'applicazione per windows abbiamo fondamentalmente due scelte o sviluppiamo un'applicazione desktop che ci permette di utilizzare l'api dell'ecosistema desktop o sviluppiamo un'applicazione per l'universal windows platform che ci permette di utilizzare l'api di questo ecosistema in realtà come abbiamo visto con un po' delle nuove feature come ad esempio la projection c sharp winart queste barriere si stanno un po' già rompendo per cui nelle demo di prima avete visto che dalla mia applicazione .net quindi desktop ho utilizzato funzionalità come winml o la geolocation che sono dell'api della universal windows platform l'obiettivo di project reunion è quello di rompere ancora di più questa barriera andando a staccare l'api di windows dal sistema operativo e portandole all'interno di librerie di pacchetti new get questo permetterà di eliminare la differenza tra un'applicazione uwp e un'applicazione win32 non perché sparirà il framework di partenza proprio perché l'obiettivo è quello di farvi permettervi di continuare a usare quello che utilizzate già oggi il fatto che utilizzate un framework come wpf windows form o uwp continuerà a rimanere ma questo non precluderà la differenza o meglio dire non precluderà le feature che potrete utilizzare del sistema operativo quindi indipendentemente che la vostra applicazione sia wpf windows form o uwp vi basterà volete utilizzare le notifiche installerete il pacchetto new get che vi abilita le notifiche volete utilizzare winml installerete il pacchetto new get che vi da winml questo indipendente dal framework che state utilizzando un altro punto di forza di project reunion è quello di aumentare la superficie di compatibilità dell'api di windows 10 qual è il problema oggi di un'applicazione che vuole utilizzare le feature della universal windows platform che ipotizziamo che la nostra applicazione utilizza una feature che è stata aggiunta con windows 10 20.04 affinché i miei utenti possano utilizzare la mia applicazione con questa feature i miei clienti devono per forza utilizzare questa stessa versione e questo potete immaginare come soprattutto nel mondo enterprise che si muove un po' più lentamente del mondo consumer è un requisito non indifferente non tutte le aziende sono in grado di mantenere gli utenti sempre sulla versione più recente di windows 10 soprattutto oggi dove con l'approccio windows as a service le versioni nuove di windows 10 escono una due volte all'anno non più come in passato dove una nuova versione di windows era qualcosa che succedeva solo una volta ogni tanto con project reunion dato che questi pacchetti new get contengono l'implementazione dell'api che voglio utilizzare invece saremo in grado di coprire una superficie di versione di windows 10 più ampia e quindi i miei clienti potranno utilizzare la nuova feature che è stata introdotta in project reunion a partire da windows 10 17.09 in avanti un aspetto che fa parte di project reunion e che possiamo già toccare con mano oggi è la possibilità di integrare esperienze web all'interno delle nostre applicazioni qual è la motivazione di questo progetto di questo feature che vi vado a raccontare che al giorno d'oggi capita spesso di dover integrare all'interno di un'applicazione desktop dei contenuti di tipo web che potrebbe essere una banalissima about page fino ad arrivare a dei tipi di interazione degli approcci di interazione avanzate con delle funzionalità che esponiamo già ad esempio sul nostro sito web o su altri client il problema il problema è che se voi oggi all'interno di un'applicazione WPF o Windows 4 anche con .NET 5 quindi utilizzando un runtime più moderno nel momento in cui integrate il controllo web browser che è incluso all'interno del framework il runtime che state andando a utilizzare è quello di Internet Explorer Internet Explorer è ovviamente un framework un browser non più moderno che non supporta la maggior parte delle nuove feature introdotte a livello di JavaScript HTML CSS e così via e quindi al giorno d'oggi offrire delle esperienze web basate su questo motore di rendering non è una buona idea per questo motivo come componente di Project Reunion il team di Windows ha realizzato un nuovo controllo che si chiama WebView 2 che è basato sul nuovo motore di Edge che sfrutta l'engine di Chromium quindi possiamo integrare all'interno delle nostre applicazioni desktop il motore di Chromium Edge all'interno delle nostre applicazioni e ovviamente in questo caso parliamo di un motore di rendering molto più moderno molto più efficiente in grado di renderizzare i contenuti web più recenti questo controllo WebView è un primo esempio di Project Reunion perché può essere sfruttato indipendentemente dalla tecnologia che utilizzate per sviluppare le vostre applicazioni quindi lo potete utilizzare in WPF in Windows Form in C++ UWP .NET Core e così via è indipendente in realtà dal browser Edge questo perché non è detto che sulla macchina ci possa essere il browser Edge ma sfrutta un runtime dedicato che si chiama WebView 2 Runtime che può essere distribuito con l'applicazione ci sono due modalità di deploy di questo runtime potete avere un runtime evergreen ovvero lo installate la prima volta assieme alla vostra applicazione avete delle API per capire se il runtime è presente o no e installarlo e poi dopodiché ci penserà in automatico questo runtime a mantenerlo aggiornato quindi avrete la vostra applicazione desktop utilizzerà il runtime sempre più recente di Edge perché è un runtime dedicato beh oltre appunto perché non potrebbe non esserci Edge sulla macchina ma anche perché in alcuni casi questo runtime evergreen potrebbe contenere dei fix o delle feature specifiche che servono per il mondo desktop e per la necessità di comunicare di far comunicare questi due mondi che magari non troviamo presenti invece nel browser vero e proprio se invece avete bisogno di una dipendenza specifica a una versione di Edge perché magari si tratta di un'applicazione che viene deployata in un ambiente critico oppure disconnesso deve essere un ambiente molto controllato potete fare una distribuzione di tipo fixed ovvero il runtime viene integrato all'interno dell'applicazione stessa e non sarà mai più aggiornato finché non lo aggiornate voi durante però la fase di sviluppo e testing della vostra applicazione invece invece che utilizzare il runtime potete sfruttare le versioni non stabili di Edge quindi se voi avete sulla vostra macchina una versione di Edge nel canale beta dev o canary allora in questo caso la vostra applicazione è in grado di utilizzare quel motore come runtime della webview 2 questo è importante per la fase di sviluppo e testing vi permette ad esempio se utilizzate il runtime di evergreen di essere sicuri che le versioni successive del runtime evergreen non creeranno problemi alla vostra applicazione perché voi l'avete già testata con le funzionalità che sono incluse nelle versioni beta dev o canary di Edge vediamo un esempio di utilizzo del controllo webview 2 come vedete io ho un'applicazione in questo caso che ha introdotto il controllo webview 2 tramite un pacchetto newget il runtime viene distribuito come eseguibile che fa l'installazione ma l'API e il controllo vero e proprio vengono fornite tramite un pacchetto newget che vi permette di includere nella vostra applicazione in questo caso WPF quindi è un controllo xaml questo controllo webview 2 che ci dà dell'API per interagire con il controllo l'API più banale è quella che ci permette di arrivare a integrare a interagire con la navigazione e quindi avere un meccanismo di comunicazione tra l'applicazione nativa e l'applicazione web cosa significa che ad esempio io in questo caso vado ho associato al pulsante la chiamata al pulsante all'evento al metodo navigate esposto dalla webview 2 e quindi io in questo caso posso semplicemente crearmi un mio mini browser e far navigare l'utente verso un'altra pagina uno scenario però più interessante è quello della comunicazione tra l'applicazione desktop e l'applicazione nativa ovvero vedete che io ho caricato una pagina web premendo il pulsante home porto l'utente verso una pagina web che ho pubblicato su Azure e quando clicco questo pulsante che è un pulsante html all'interno di questa pagina vedete che ho un'esperienza di tipo nativo parte una progress bar nativa e mi viene mostrato un pop up vpf con le coordinate della mia posizione recuperate tramite l'api che abbiamo visto anche prima questo è reso possibile dal fatto che grazie al controllo webview ho delle api che mi permettono di interagire con la mia applicazione web quindi se vado a vedere ad esempio l'applicazione web che io ho pubblicato la apro con visual studio code vedete che ho un'applicazione web che al suo interno va a chiamare un metodo che si chiama window.chrome.webview post message quando io vado a chiamare questa api web questa api javascript quello che succede è che un evento invece esposto dal mio controllo webview2 nativo che si chiama web message received viene scatenato e da qui riesco a dato che sono tornato nel mondo dell'applicazione .net posso eseguire codice nativo posso recuperare il parametro il messaggio che mi è arrivato quindi questo parametro hello world che avete visto prima nel pop up è arrivato dall'applicazione web ma poi qui sono nel mondo nativo quindi ad esempio posso cambiare la visibilità della progress bar per mostrarla posso chiamare la classe geolocator per recuperare la mia posizione e così via quindi un controllo moderno per realizzare e integrare esperienze web all'interno delle nostre applicazioni desktop l'ultima feature che vi voglio raccontare in questa demo è un altro componente di Project Reunion e probabilmente il componente più importante e interessante dell'intera piattaforma ovvero WinUI che cos'è WinUI? WinUI è una libreria che è stata introdotta qualche anno fa dal team di Windows e che contiene tutte le contiene i controlli e le feature della piattaforma visuale di Windows 10 quindi quella che ad esempio troviamo implementata con il Fluent Design quando noi lanciamo un'applicazione Windows 10 nativa pensate a mail, calendar le applicazioni in box dentro Windows 10 utilizzano questa UI moderna che ha un aspetto non solo moderno in termini di user experience e di look and feel ma anche a livello ad esempio di accessibilità di supporto al touch e così via questa piattaforma è stata creata qualche tempo fa dal team di Windows con l'obiettivo di staccare i controlli dalla piattaforma e portarli in un pacchetto new get per la stessa filosofia che vi ho raccontato prima di Project Reunion quindi aggiornare poter aggiornare questi controlli e aggiungere nuovi controlli più velocemente perché non dipendono più dal ciclo di rilascio del sistema operativo e vi permette anche di usare questi controlli attraverso più versioni di Windows 10 senza richiedere all'utente di essere per forza sulla versione più recente WinUI fino alla versione 2.x che è quella attuale è sempre prestato però un framework specifico per l'ecosistema Universal Windows Platform tramite una tecnologia chiamata Xamol Islands siamo in grado di ospitare alcuni controlli all'interno di un'applicazione WPF Windows Form o C++ ma l'intero sviluppo di un'applicazione con il Fluent Design e con WinUI ha sempre richiesto l'uso della Universal Windows Platform con WinUI 3 invece questa cosa andrà a cambiare perché abbiamo avuto nel tempo diversi framework per fare UI in Windows 10 in Windows MFC Windows Form WPF WinUI è il framework più moderno delle applicazioni UWP ma con WinUI 3 quello che succederà è che oltre ad aver staccato i controlli e gli stili verrà staccato anche l'intero visual layer del framework quindi l'intero layer visuale questo permetterà a WinUI di poter essere utilizzato non più solo dalle applicazioni Universal Windows Platform ma anche dalle applicazioni desktop tradizionali e quindi ci permetterà di avere un unico framework per la UI allo stato dell'arte che potremmo utilizzare indipendentemente da qual è il nostro background se siamo sviluppatori UWP WPF C++ Windows Form non importa potremmo utilizzare questo ecosistema e quindi questo a tendere farà diciamo un po' sparire l'Oxamul della Universal Windows Platform perché tutti gli investimenti saranno fatti su WinUI WinUI in questo momento è in fase di preview siamo alle battute finali e per farvi capire la potenzialità di WinUI la prima cosa che faccio è lanciare questa applicazione per farvi capire di qual è il cuore di WinUI lanciamo questa applicazione e come vedete questa applicazione di primo aspetto è un'applicazione Windows 10 vedete che ho lo stile visuale di Windows 10 è un'applicazione assolutamente responsive vedete come il layout cambia in base al numero alla dimensione dello schermo e così via dietro le quinte però c'è un'applicazione desktop quindi se io vado a vedere la struttura di questo progetto vedete che è un'applicazione desktop .NET 5 non è un'applicazione di Universal Windows Platform e lo vedo perché ad esempio se io schiaccio questo pulsante save tv show cosa ho fatto sono andato sul desktop della mia macchina e sono andato a creare un file con l'elenco delle serie tv che vedevate nel lab questa potrebbe sembrarvi una cosa banalissima ma in realtà è una cosa estremamente potente perché significa che da un'applicazione che ha look and feel di Windows 10 ho utilizzato API invece dell'ecosistema Win32 quindi se vado a vedere i codici di questa applicazione vedrete che ad esempio sto usando API come environment come file o addirittura come un registry service che utilizza l'API del registro per lavorare con registro in un'applicazione Windows 10 questo è un punto di forza enorme perché significa che la mia applicazione posso sviluppare applicazioni con il look and feel moderno di Windows 10 ma senza avere le limitazioni della sandbox della universal Windows platform quindi posso utilizzare API Win32 e posso riutilizzare il codice che io sto già usando nelle mie applicazioni .NET nelle mie applicazioni web nelle mie applicazioni mobile mentre prima il fatto che UWP poteva usare solo il Windows Runtime nella maggior parte dei casi dovevo ripartire da capo oppure se lo sviluppatore che ha fatto una libreria non forniva una versione compatibile con il Windows Runtime poteva avere dei problemi ad utilizzarlo questo soprattutto in scenario Enterprise apre le porte a tantissime applicazioni che prima era impensabile riscrivere da zero per poter utilizzare tutti i vantaggi della UI di Windows 10 WinUI come vi dicevo è in questo momento in preview la versione la prima versione con il Go Live quindi con la possibilità di essere utilizzata in produzione arriverà a marzo con il rilascio della versione 0.5 di Project Reunion WinUI poi continuerà ad essere aggiornato ed evoluto con le prossime versioni di Project Reunion che usciranno a maggio giugno con la Reunion 0.8 fino a ottobre con la versione 1.0 di Project Reunion ultima cosa che cito è che il team di .NET sta lavorando anche a una nuova tecnologia che si chiama MAUI Multi App User Interface che è la nuova evoluzione di Xamarin Forms per realizzare applicazioni con la UI cross-platform quindi applicazioni che girano cross-platform sul mobile su Android su iOS e così via MAUI avrà come novità principale farà parte del rilascio .NET 6 estenderà questo aspetto del mobile al desktop se Xamarin Forms era focalizzato soprattutto su Android e iOS con MAUI troviamo anche il supporto alla parte desktop quindi Windows e Mac l'implementazione Windows di MAUI sarà proprio con WinUI 3.0 quindi potremmo fare applicazioni cross-platform che su Windows verranno renderizzate con la UI di Windows 10 grazie a WinUI 3.0 ultimo punto come distribuisco le mie applicazioni Windows la strada migliore per modernizzare l'aspetto della distribuzione delle applicazioni Windows lo raggiungo con MSIX MSIX è la tecnologia introdotta recentemente dal team per pacchettizzare e distribuire applicazioni Windows porta tanti vantaggi rispetto a quelli che avevano altre tecnologie come gli aggiornamenti automatici senza scrivere codice installazione e disinstallazione veramente pulita differential updates e così via e in più ci permette anche di integrarlo facilmente con meccanismi DCI e CD per fare DevOps e ci dà un'identità alla nostra applicazione che semplifica l'integrazione con feature di Windows 10 ad esempio la prima versione di WinUI 3.0 funzionerà in combinazione con le applicazioni che sono pacchettizzate grazie a MSIX con questo io ho concluso vi segnalo tre cose la prima è questi sono i miei contatti per qualsiasi dubbio domanda sugli argomenti che ho toccato in questa sessione non esitate a contattarmi secondo il mio team lavora per un programma che si chiama Windows Developer Enterprise TAP che aiuta le aziende e gli sviluppatori proprio ad adottare queste tecnologie che abbiamo visto in questa sessione se qualcuna di queste tecnologie vi interessa approfondirla con un progetto contattatemi pure e sarò lieto di fare due chiacchiere con voi su questo tema infine questa sessione così come tutte le altre sarà pubblicata nelle prossime due settimane sul canale youtube dello Scottish Summit quindi potete recuperarla anche se non avete potuto seguirla dal vivo io vi saluto e vi ringrazio grazie a tutti